come va e bentornati sul mio canale come sempre vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità oggi voglio parlarvi del bonus renzi che è in ritardo che cosa succede me lo avete scritto in tantissimi io pensavo che la situazione era praticamente tutto a posto invece a quanto pare questo bonus renzi sembra che sia sparito e poi oltre a iscrivervi tra l'altro apro parentesi oltre a iscrivervi al canale ricordatevi che qui sotto nella infobox o nel primo commento se mi ricordo di lasciarvelo trovate il collegamento per abbonarvi al mio canale costa veramente pochissimo però potete avere accesso a tantissimi video riservati che non praticamente non vedrete mai su youtube e poi tra l'altro 33 tutti questi video riservati c'è anche la possibilità di ricevere una risposta prioritaria ai vostri commenti quindi diciamo doppio vantaggio per chi è abbonato al mio canale andiamo avanti con il bonus anche per il 2023 il nostro governo ha confermato il trattamento integrativo che viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti e che ha che sostituito praticamente quello che si chiamava il bonus renzi da 80 euro dal primo di luglio del 2020 bonus irpef può arrivare fino a un massimo di 120 euro al mese quindi stiamo parlando di 1200 euro annui calcolato in base proprio alla fascia di reddito del beneficiario poi lo sapete il bonus irpef è destinato anche anche ad altre categorie di persone tra cui lavoratori atipici e disoccupati che ovviamente prendono la naspi ma adesso veniamo nel bello del video la domanda a cui vogliamo rispondere è proprio questa come mai non è ancora arrivato il pagamento del bonus partiamo dai requisiti che forse la cosa più semplice ci sono dei limiti di reddito che sono questi che adesso vi dico sono praticamente due primo per i redditi fino a 15 mila euro il trattamento integrativo arriva fino a 1200 euro a noi come vi ho detto prima nel caso in cui ci sia una capienza di imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni individuate per le medesime fonti di reddito dopo si capisce comunque dopo nel video si capisce meglio secondo per i redditi superiori a 15 mila euro con un limite comunque fino a 28 mila euro il trattamento integrativo non può comunque superare 1200 euro annui detto questo quindi bisogna capire in quale delle due categorie voi fate parte e è importantissimo se avete capienza di imposta come faccio io a sapere se ho capienza d'imposta è molto semplice basta che vi fate fare un ricalcolo molto semplice da un caff un patronato un consulente abilitato all'invio delle dichiarazioni andate da lui vi fate fare un ricalcolo e più o meno più o meno dovreste riuscire a capire se avete capienza d'imposta poi non solo può anche capitare che nei mesi di dicembre e gennaio l'inps effettua delle operazioni di conguaglio per ricalcolare l'importo esatto della prestazione integrativa che deve essere pagata è tra le varie cose perché anche l'inps e file i calcoli ovviamente ovviamente io non posso entrare nella situazione vostra personale familiare perché non conoscendo la situazione fiscale vostra rimane un po difficile da parte mia dirvi perché non è arrivato questo questo potete benissimo capirlo anche da voi io posso darvi dei consigli su come fare per capire perché non arriva ed eventualmente agire di conseguenza e comunque se proprio proprio siete nella condizione giusta dovete tutti i requisiti per ricevere il pagamento potete sempre optare per recuperarlo nella dichiarazione dei redditi 730 o modello unico che bisognerà inviare poi a partire da marzo o aprile comunque da marzo aprile in avanti ecco quando si è per settori della naspi non bisogna presentare alcuna domanda all'inps in quanto è proprio l'inps che opera come sostituto d'imposta e va a riconoscere appunto il bonus automaticamente quindi è proprio l'inps che fa tutti i suoi calcoli e comunque rispetto proprio per quanto riguarda la naspi il bonus renzi può essere erogato anche qualche mese dopo rispetto al primo mese di pagamento della naspi quindi non è che viene pagato insieme in contemporanea può essere pagato anche sganciato ecco comunque per i lavoratori vi ricordo che il trattamento integrativo anche per quest'anno viene appagato automaticamente in busta paga e non serve comunque richiederlo perché il consulente del lavoro dell'azienda per il quale lavorate si occupa lui di fare tutti i conteggi e eventualmente pagarvelo in busta paga bene detto questo io vi ringrazio per avermi guardato come sempre vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e come vi ho detto all'inizio nella infobox trovate anche il collegamento per abbonarvi al canale e avere tantissimi vantaggi in più rispetto a quelli che invece non sono abbonati e noi ci vediamo come sempre sull'unico canale originale di youtube il mio vi aspetto ciao